Nel momento in cui appunto questa sessione viene registrata, il contenuto verrà poi uploadato sul nostro sito web e sarà disponibile poi per la visualizzazione anche a posteriori o per chi non dovesse essere presente qua oggi. E poi ultima cosa ovviamente come anticipato al termine della sessione per chi dovesse essere ancora presente appunto regaleremo una licenza ProCoreOne, il nostro applicativo di CTI singola postazione per ringraziarvi insomma della fedeltà di essere rimasti fino all'ultimo. Quindi cominciamo. Oggi vi parlerò di due argomenti ben distinti che sono quelli poi che sono stati anticipati e che vedete anche in questo momento all'interno della slide che è condivisa. Il primo ha a che fare con la nostra identità, la nostra cosiddetta immagine coordinata. Più che un makeover è un vero e proprio cambio di direzione rispetto a quanto abbiamo fatto finora. Quindi vi parlerò del nostro sito web e di come le cose sono cambiate anche dal punto di vista del nostro approccio. Il secondo argomento invece è ProCall Analytics 2. Quindi approfittiamo di questa sessione anche per annunciare, per fare insomma il rilascio ufficiale sul canale italiano di quella che è la seconda release dell'applicativo di Business Intelligence ProCall Analytics. Ma andiamo per ordine. Questo per chi dovesse essersi mai imbattuto, ai tempi in cui Estos Italia ancora non esisteva, era il sito web Estos ai tempi del 2005, quindi 11 anni fa. Il prodotto di punta a quel tempo era ProCall 2.2, ma erano già presenti buona parte dei prodotti del nostro portfolio che conoscete già come la famiglia Extra, Meta Directory oppure Call Control Gateway. Ai tempi la focalizzazione era principalmente sulla CTI, l'argomento pionieristico era la CTI, ovvero la possibilità di comandare un dispositivo telefonico o più dispositivi telefonici da un applicativo su PC. Questa era la cosa che era veramente innovativa e che poi avrebbe sbloccato tutta una serie di possibilità in futuro. Siamo poi passati anche con la fondazione appunto di Estos Italia con il sito che io chiamo in versione 1.1, ovvero il prodotto di punta era ProCall Enterprise nella sua versione 4 o 4 plus poi successivamente. E anche qua cominciavamo un po' oltre alla CTI a capire che l'integrazione di questo tipo di funzioni con i processi lavorativi del cliente, con i processi lavorativi di un'azienda, era il vero cosiddetto game changer. Quindi è qualcosa che fa davvero la differenza, perché se consideriamo, io amo spesso citarlo, uno studio del Politecnico di Milano di ormai un anno e mezzo fa, che individua in una forchetta che va dal 20 al 50% dei motivi per cui le piccole e medie imprese che hanno chiuso in questo periodo di crisi hanno chiuso, ebbene questo tra 20 e 50% dei motivi, il motivo era la mancanza di strumenti informatici, quindi di razionalizzazione dei processi, perché una delle cose che possono migliorare drasticamente le performance di un'azienda è fare le cose in maniera razionale, in maniera smart, come si usa dire molto spesso. Per cui qua noi cominciavamo a trasmettere ai nostri reseller, ai nostri fedeli reseller, questo concetto. Non parliamo più solo di CTI, non parliamo del fatto che clicco qua e chiamo, resta tuttora importantissimo, però non è il fine, il fine è appunto arrivare a dire bene, io clicco qua, ma clicco qua perché questo è un contatto che proviene dai miei applicativi aziendali, ricevo una chiamata e quello che mi viene mostrato è qualcosa che proviene appunto dai miei applicativi aziendali, è diffuso e integrato con il resto della mia infrastruttura, senza che mi venga chiesto di sconvolgere, cambiare telefoni, cambiare server, piuttosto che cambiare gestionale. Questo era il logo, questo era il logo fino appunto a poco più di sei mesi fa, sì. Ovviamente il logo era fortemente incentrato sull'integrazione telefonica, quindi il simbolo della cornetta la faceva da padrone. Abbiamo deciso di passare a questo. Quindi il logo ad oggi, per chi era presente all'evento di quest'estate, il 13 giugno alla Zise, ne abbiamo parlato un po', il logo cambia sensibilmente perché l'idea è che noi stiamo passando da un momento in cui la telefonia era il blocco fondamentale su cui costruire, invece ad un momento in cui la telefonia è uno degli elementi che si possono fornire a livello di unified communication. E appunto la migrazione di colore dal verde acido che Pantone 381, come ormai quelli del marketing hanno mai iniettato nel cervello, vedete nell'angolo in alto a sinistra, la migrazione da quel colore, che è il nostro colore storico, fino al colore azzurro, indica appunto che è questo, ormai sempre di più la fusione tra IT e CTI è il futuro dove guardare. E l'occhio rappresenta una volontà nostra di poter guardare a tutti gli orizzonti comunicativi, non escludendo, ve lo anticiperò poi al termine della sessione, anche il mondo dei siti web, della comunicazione tramite i siti web. Quello a cui siamo arrivati quindi ad oggi, e che potete vedere già online, già dal giorno 15 gennaio, è il nuovo sito web, il nuovo layout di Estos Italia. Ed è il mio onore adesso farvi vedere, farvi una breve panoramica su dove e che cosa troverete sul nuovo sito web. Quindi, recandovi sul sito Estos.it, probabilmente per chi era abituato magari ad accedervi per scaricare velocemente la nuova release del determinato software, si è trovato un po' spiazzato, ma questo appunto è il nuovo layout. Comincio con rassicurarvi che tutti i contenuti che vi eravate abituati a trovare sono ancora qui. Non abbiamo rimosso nulla. Abbiamo semplicemente razionalizzato, perché ci siamo resi conto nel tempo che i grossi quantitativi di testo ormai sono qualcosa che difficilmente viene recepito. Quando si vuole valutare la filiabilità o comunque si vuole avere una prima idea di un'applicazione, ci si basa principalmente sulle immagini e su pochi e semplici e soprattutto chiari punti. Ed è questo che abbiamo cercato di trasmettere. Il sito di prima, in tutta onestà, lo dico in completa trasparenza, era un sito dedicato ai reseller. Un cliente finale che dovesse essersi recato sul nostro vecchio sito, a parte ovviamente le necessarie recezioni, ma difficilmente capiva qual era il nostro core business. Mentre invece il nuovo sito vuole essere appunto qualcosa per tutti. Vuole essere un sito sul quale ogni prodotto è ben descritto, sia dal punto di vista delle funzionalità principali, sia dal punto di vista dei dettagli tecnici, nel caso in cui un tecnico, un partner, decida di approfondire specifici argomenti. Per cui nella home page trovate senza dubbio una presentazione e un dovuto, chiaramente, ruolo da protagonista a Procall 5 Enterprise, che è la nostra applicazione Unified Communication. Troviamo anche, e ne mettiamo sempre più in evidenza, case studies, quindi di clienti, di realtà aziendali, più o meno strutturate, che hanno deciso di utilizzare i nostri applicativi e ci riportano volentieri la loro esperienza, perché chiaramente i nostri clienti sono il nostro principale biglietto da visita. Scorrendo ancora, potete avere accesso a argomentazioni riguardo, per esempio, i servizi professionali oppure il nostro partner program. I prodotti hanno un loro menu a sé stante, divisi per le ormai cinque macro-categorie a cui eravate già abituati. Ovviamente, in ambito Unified Communication, troviamo Procall Enterprise. Per quanto riguarda i middleware, la fa da protagonista la nostra serie extra, quindi il middleware per la comunicazione con le centrali telefoniche. esiste poi chiaramente la sezione dedicata ai servizi di rubrica, ai database, e ovviamente Meta Directory è il prodotto principale. E poi, oltre alle soluzioni per Microsoft Link, quindi ci tengo poi sempre a specificare che tra le nostre applicazioni esistono anche degli applicativi a corredo per il mondo, Microsoft Link o Skype for Business, c'è poi la sezione dedicata al mondo WebRTC, ed è, diciamo, giusto un accenno di quello di cui vi parlerò al termine della sessione. Quindi, intanto, su ogni singolo prodotto, e guardiamo un po' Procall Enterprise, c'è una possibilità immediata di poter provare l'applicativo, quindi non costringiamo più i partner a sgarfare all'interno del sito, quindi perdersi un po' nei meandri, ma il link per il download è lì, subito. Se invece io fossi un end user e volessi capire di che cosa stiamo parlando, bene, io qua ho cinque menu che mi portano a una diversa posizione all'interno della pagina, dandomi informazioni chiave, ok? Quindi tutto quello che una volta era presente, era descritto in lunghi, lunghi paragrafi di testo, qui invece è semplice e comprensibile, quindi CTI, Price Management, Insta Messaging, linguette personalizzabili, rubrica esposizione, desktop sharing, io potrei anche semplicemente leggere i titoli, e farmi un'idea di quali sono le funzioni. Se sono interessato, poi mi leggo la descrizione di ogni singola funzione, e vedo anche poi le altre piattaforme supportate, Procall for Mac, Procall Mobile, l'integrazione CTI con smartphone e cellulari, scendendo ancora, man mano che scendo, il tutto si fa più tecnico, per cui arrivo ai requisiti tecnici, c'è del materiale informativo, la topologia, il confronto tra le varie versioni di Procall, le case study, e poi alla fine si dice, va bene, hai guardato tutto questo, ti interessa, provalo ora, un clic qua, e come la nostra tradizione, senza obbligo di registrazione, voi potete scaricare una versione dell'applicativo di pertinenza, e poterlo utilizzare appunto per 45 giorni. E tra le altre, vi diciamo anche che altri prodotti ci starebbero bene a braccetto, tra cui ovviamente Procall Analytics, di cui parleremo tra poco. E questo vale per qualunque nostro prodotto. Consci del fatto poi che la chiave di volta è quella dell'integrazione ad applicazioni terze, abbiamo dedicato una sezione, perdon, tutta all'integrazione con hardware e software. Quindi, specialmente sull'ambito software, a me piace molto, popoleremo man mano di casistiche, di integrazione con i principali strumenti, CRM, ERP, gestionali. Adesso per esempio, attenzione particolare dedicata al mondo Microsoft Dynamics, sia per quanto riguarda il mondo CRM, che per il mondo ERP o Navision. E quindi, si descrive quali sono i vantaggi di utilizzare questo tipo di integrazione, e anche quali sono le funzioni, o i risultati che si possono raggiungere. E appunto porteremo questa nostra esperienza per tutta una serie di applicazioni che poi troviamo sul territorio italiano. Ora, io onestamente mi sono messo l'anima in pace rispetto alla possibilità di creare un database di gestionali più o meno compatibili, perché sono qui da sei anni ormai, e tengo di sentire due o tre nuovi nomi di gestionali ogni settimana. Però la forza appunto di Procona Enterprise è quella di non avere bisogno di una lista di compatibilità, è quella di poter integrare, con meccaniche standard e completamente personalizzabili, l'applicazione con le applicazioni invece in uso del cliente. La terza linguetta sono invece i servizi, e in questo cerchiamo di darvi una panoramica esaustiva su quelli che sono i servizi che vi possiamo offrire, perché lo dico spesso durante le attività di demo, con i partner, non siamo quel genere di vendor che vi manda la scatola a casa e arrivederci, saluti, ci sentiamo al prossimo ordine. Noi siamo vicini ai nostri reseller e chi è nostro partner lo sa, siamo sempre qua a disposizione per anche delle semplici attività di consulenza. Oppure, Stefano, secondo te questa cosa si potrebbe fare con questo applicativo, considerando queste richieste, cosa si può arrivare a fare? Beh, possiamo arrivare a 5, 10, a 15. E quindi parte dei nostri servizi è appunto la possibilità di darvi un'assistenza tecnica e un'assistenza soprattutto pre-sale di livello, perché siamo consci di trovarci in un territorio che sta a metà, sta a metà tra il mondo telefonico, tradizionale, piuttosto che evoluto, e il mondo applicativo. Allora ci sono gli installatori telefonici che magari non conoscono e non è necessario che conoscono le meccaniche di un database SQL, e d'altra parte ci sono delle aziende informatiche che invece non si sono mai scontrate su le meccaniche di controllo di una singola centrale telefonica. Ecco, noi cerchiamo di colmare questi vuoti e di poter accompagnare da un lato o dall'altro i reseller alla creazione di un progetto di successo. Quindi come vedete c'è il nostro supporto tecnico, l'area download, la formazione per i partner, i webinar come quello di oggi. E quindi, vi segnalo per chi magari ci fosse perso questa singola voce che nel menu servizi alla voce assistenza tecnica c'è anche il link per l'attivazione dei prodotti. I link precedenti comunque del vecchio sito funzionano ancora, per cui nulla è diciamo rotto da quel punto di vista. Però questo è il punto dove si possono andare ad attivare le licenze. Nella sezione partner abbiamo voluto invece ed è una cosa presente tra le novità è abbiamo voluto fare un creare un partner locator più evoluto di quello che ci fosse in precedenza. Quindi chi ha deciso di aderire al nostro programma partner può essere trovato molto facilmente da un end user che andasse a consultare, proprio questo parlo del fatto che il sito ora è molto più utente finale friendly. parlo del fatto che un end user nel momento in cui dovesse andare qua gli viene richiesto bene, vuoi trovare un partner Estos? Seleziona il tuo paese ovviamente Italia è preselezionato seleziona il come si chiama la prima cifra del tuo colice e una volta selezionato ecco qua che si ha accesso a una serie di contatti ovviamente di tutte le aziende che hanno deciso di certificarci ora non me ne vogliano quelli che non mostro in questo momento ma appunto chiunque abbia seguito i nostri percorsi di certifica sia business che expert partner è poi presente in questo elenco ed è garanzia per l'utente finale di sapere di poter chiamare un'azienda e che l'azienda conosce quello che il cliente desidera tra le ultime cose che vi segnalo per parlare di un paio di novità c'è che abbiamo voluto dedicare un po' di spazio a noi a noi ovvero alla storia di Estos quindi come il tutto è cominciato dai semplici aneddoti insomma c'è viene citato quello che a volte a voce noi abbiamo raccontato ai clienti ovvero che i due fondatori e tuttora in azienda e sviluppatori attivi di Estos si accorsero negli anni 90 della possibilità di controllare un dispositivo telefonico era un telefono DECT della TV per quale motivo? perché erano in un appartamento tra universitari e nessuno voleva pagare la bolletta e quindi l'unico modo era quello appunto di andare a farsi dire proprio dal telefono che cosa era successo da questa tra virgolette casualità è nata poi la realtà che conosciamo oggi per cui se avete se siete curiosi di sapere come siamo arrivati ad oggi appunto sulla voce alla voce su Estos e scopri di più su Estos trovate appunto una breve crony story un'altra cosa che ci piace far vedere anche qui ha ricevuto un deciso miglioramento sono le cosiddette case studies o referenze dove possiamo cerchiamo di far parlare i nostri clienti facendo raccontare quali erano le loro problematiche prima in che modo le hanno risolte poi con le nostre applicazioni Unified Communication per cui le due principali sono al momento ELIC SPA e l'azienda Pratic SPA potete andare a guardarvi i siti li trovate anche sul nostro canale YouTube è un bel esempio di cosa vuol dire implementare una strategia Unified Communication di successo e avere il riscontro poi direttamente dalle persone che le utilizzano tutti i giorni è per noi fonte di soddisfazione se scendete giù poi ce ne sono alcune altre di cui non esiste il video ma abbiamo creato per esempio dei dei come si dice dei fogli dei fogli dei documenti PDF con la descrizione e del modo in cui il tutto è stato risolto per cui siccome molto spesso è sensato lavorare per esempio qui andando a guardare potreste trovare sicuramente degli spunti di riflessione e capire che magari quella singola cosa che avete visto applicata qua può essere poi applicabile a quell'altro cliente che vi aveva chiesto ma a cui avevate risposto no ai tempi che furono molto velocemente per quanto riguarda le restanti novità appunto vi ho parlato di un'area partner locator completamente rinnovata un'area download semplificata tra poco ve la faccio vedere le descrizioni di prodotti appunto sono più semplici e chiare abbiamo cercato di fare chiarezza e portare punti ben definiti l'accesso ai materiali informativi è estremamente semplice perché appunto è tutto inserito all'interno della scheda del singolo prodotto voglio sapere tutto su per quale enterprise quella è l'unica pagina che dovrò andare a visualizzare il sito ha poi un'interfaccia ormai mobile friendly per cui potete accedere a tutte queste risorse anche da un dispositivo mobile e c'è una sezione applicazioni che è in continua evoluzione quindi man mano che la nostra esperienza cresce e cresce grazie a voi perché cresce grazie ai partner su determinate situazioni noi andiamo ad ampliare quindi la conoscenza poi viene chiaramente condivisa le ultime due cose che vi faccio vedere sono il blog e l'area download l'area download è accessibile in maniera sempre presente con questo pulsante prova gratuita che trovate in alto a destra e che da qualunque pagina vi porta direttamente all'area download avete capito abbastanza di quello che volete volete provarlo? siete su una pagina di integrazione a sugar crm e ok vi sentite pronti per provare? ecco clic sopra finite direttamente nell'area download che abbiamo poi reso più facilmente consultabile dividendola per categorie per cui io posso decidere di avere di scegliere tutto quello che riguarda l'unify communication che riguarda Procola Enterprise in italiano ovviamente o in un'altra delle lingue supportate ed ecco qua ok quindi non c'è più tutta quella lo dico onestamente confusione che albergava poi nella vecchia area download in cui tutte le lingue erano visualizzate contemporaneamente qui è impossibile sbagliarsi per cui vi invito ancora di più se non avete fatto a provare a scaricare e installare i nostri software concludo con il blog che è una cosa che a me piace molto perché è ovviamente un modo più informale di trasmettere quelle che sono le nostre visioni o di annunciare novità tecniche il blog non è una diciamo sezione di comunicati stampa con quel formato ben definito il giorno tot l'azienda tal dei tali estos si sono incontrati e hanno detto che ecco no in realtà la parte dei blog la popoleremo sempre più spesso con le nostre esperienze quindi anche con spunti di riflessione per esempio cosa può Procall fornire a un'azienda metallurgica piuttosto che un'azienda che si occupa di automotive o a uno studio di commercialisti uno studio legale uno studio dentistico le casistiche sono le più disparate e ci teniamo in questo modo a farvi avere degli elementi degli elementi di riflessione e soprattutto degli elementi di proposizione nei confronti dei vostri clienti quindi dire ah ho visto qua che questa cosa si può fare bene vado a riproporla nella stessa maniera o nella mia salsa però mi piace molto questa idea di poter comunicare più direttamente con voi quindi dire va bene sappiate che oggi la nostra idea che diciamo può essere giusta o sbagliata ma insomma siamo arrivati fino a qua in molti casi si è dimostrata giusta è questa la nostra visione delle comunicazioni da qui a 1 a 5 anni è questa e ve ne andiamo partecipi e sul blog ovviamente inseriremo anche tutti quegli eventi come quello che stiamo a cui stiamo partecipando tutti quanti oggi e che possano poi tornare utili sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista commerciale per cui vi invito fin da oggi a reccarvi sul nostro sito sappiate che in arrivo ci sono poi anche un area partner quindi la possibilità di registrarsi e consultare delle risorse riservate ai partner oltre a un calendario corso e che andare a un webinar sempre aggiornato vi invito a visitare oggi stesso quindi il nuovo sito www.sos.it vi assicuro che l'esperienza gli argomenti e i benefici che ne potete trarre sono assolutamente migliorati rispetto alle versioni precedenti bene parliamo del secondo del secondo argomento ribadisco volentieri al termine della conversazione risponderò a tutte le domande che verranno poi inserite all'interno della chat dell'applicativo web conference per cui non abbiate timore se avete qualche minimo dubbio se la risposta dovesse essere un po' più articolata di quanto un evento come questo possa permettere sarà nostra premura a contattarvi direttamente il nostro ufficio commerciale è lì per questo allora parliamo di Procall Analytics Procall Analytics di cui parliamo oggi perché è ufficialmente presente e rilasciata per il territorio italiano la versione 2 è l'applicativo di Business Intelligence che abbiamo creato e sviluppato a corredo di Procall Enterprise il tutto è nato da una domanda che ci veniva posta molto spesso ma Procall Enterprise ha un suo database? si si possono fare delle statistiche? ci sono dei dati per cui volendo caro reseller puoi sviluppare la tua applicazione di di Business Intelligence ora non era la migliore delle risposte me ne rendo conto anch'io per cui da questo bisogno abbiamo deciso bene ci sono molte molte necessità all'interno del mercato di quella che vende di quella branca diciamo di informatica che viene chiamata Business Intelligence molte delle richieste sono standard perché a tutti interessa sapere quante chiamate arrivano in azienda a tutti interessa sapere quante qual è l'azienda che chiama di più a tutti interessa sapere quanto rispondono bene o male i miei collaboratori ed è per questo che è nato Procall Analytics Procall Analytics è appunto l'applicativo di Business Intelligence a corredo di Procall Enterprise quindi è un modulo software a sé stante che si appoggia al server di Procall Enterprise e grazie ai dati che quest'ultimo popola per cui ogni evento telefonico o comunicativo viene riportato nel database di Procall Enterprise quindi grazie a queste informazioni lui vi dà una visualizzazione semplice da sfruttare e completa quindi quali sono i punti di forza poi tra un attimo vediamo anche il prodotto in funzione la consultazione dei dati è semplice non si tratta di un'applicazione di Business Intelligence con menu diciamo complessi con mille funzionalità spesso mai utilizzate ma deve essere pensato per sia per soddisfare le necessità dei supervisori quindi di chi sovrintende una particolare divisione dell'azienda sia è potenzialmente utilizzabile anche dai singoli utenti come strumento di autovalutazione e per questo abbiamo mantenuto l'interfaccia più semplice e intuitiva possibile ciò non toglie che sia possibile fare un'analisi in profondità per cui possiamo andare veramente a scovare il singolo dato all'interno di quello che vediamo si tratta di un'applicazione web per cui è indipendente dal tipo di piattaforma che utilizzate per consultarlo la configurazione l'installazione è veramente ai limiti del banale avanti 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 dove è il server di Procall qui ok finito ovviamente con un occhio alla privacy per cui ci sono varie modalità per cui possiamo isolare i dati per gruppi per divisioni e poi questa è un po' sono esportabili quindi posso anche produrre dei report che rendono addirittura anche se sembra un paradosso inutile l'accesso alla piattaforma web in sé vediamo quindi l'applicativo in funzione lo apriamo tra l'altro vi segnalo che se volete provarlo la stessa piattaforma di demo che vi farò vedere tra poco è raggiungibile proprio dalla pagina prodotto di Procall Analytics se volete su la pagina di Procall Analytics oltre chiaramente a una descrizione delle funzionalità c'è un link che vi porta appunto a un'interfaccia web di demo per cui potete andare a consultarlo voi in completa autonomia allora Procall Analytics è questo cosa vi vi fa vedere si divide in quattro macro categorie che sono agenti o utenti che si voglia contatti riepilogo della gestione e progetti per ognuna delle divisioni quindi agenti contatti e progetto lui presenta una serie di statistiche di cui vado a fare un breve un breve ricapitolo e vi permette di visualizzare il conteggio delle chiamate e la complessiva durata per contatto esterno che significa che io ah no queste sono per agente perdono quindi per utente Procall quindi tutto quello che l'utente Procall fa o riceve viene elencato qui sia in termini di quantitativo di chiamate sia in termini di durata complessiva sia in termini di accessibilità quindi per vedere chi risponde di più o risponde di meno viene raggruppato viene riassunto anche il livello di performance quindi a livello di servizio quindi quante chiamate io rispondo in prima battuta quante ne ho perse quanto è la durata media qual è il tempo di attesa medio quali sono gli orari di picco quindi in quali momenti della giornata io ho un traffico più intenso sulla mia nella mia azienda a livello telefonico e questo è già un dato che mi aiuta a valutare come posizionare le persone all'interno della singola divisione poi ci sono dei grafici generali con delle percentuali per esempio delle chiamate interne quante ne vado a perdere quante invece poi rispondo in meno di 10 secondi in meno di 20 secondi in meno di 30 secondi la cosa interessante che appunto parlavo di analisi approfondita è che io non mi devo limitare a a dire vabbè ho perso il 55% delle chiamate questa azienda non è molto performante ma se io clicco qua sopra Proconalytics mi fornisce un dettaglio sul perché queste chiamate sono state effettivamente perse perché nel momento in cui io con Proconal Enterprise conosco lo stato di occupato di un utente in base all'occupato del telefono o l'occupato in calendario grazie all'integrazione con Microsoft Outlook e IBM Notes l'occupato perché non era davanti alla postazione cosiddetto inattivo ecco io già posso costruire uno schema più sensato per far capire al mio utente al mio supervisore perché queste chiamate venivano perse io vedo che delle chiamate perse il 41% era perché gli utenti erano già in conversazione già mi fa pensare che potrebbe non essere colpa degli utenti ma colpa del dimensionamento un altro 25 più 8% era perché l'utente era occupato in calendario e solo un 25% di quei 55% è effettivamente imputabile ad altre cause quindi magari a un utente che non risponde al telefono anche se dovrebbe ecco questo è il genere di meccaniche che possono aiutarmi in più ogni ogni pezzo ok di questi grafici è eventualmente selezionabile quindi posso dire va bene guardo solo le chiamate in uscita escludendo quindi dalla leggenda le altre e soprattutto esportabile io da qualunque parte dell'applicazione posso dire crea un rapporto e Procall Analytics mi crea un file un file pdf ok che io posso eventualmente esportare poi inviare o stampare lo stesso tipo di meccaniche è poi ribaltabile per azienda per azienda cliente intendo per cui dopo che ho guardato magari mi interessa relativamente che cosa fanno i miei utenti mi so di aver raggiunto un buon livello di performance però mi interessa sapere dall'altra parte quali sono le aziende che più mi contattano dovete immaginare che un'azienda che utilizza Procall Analytics in questo modo ha sicuramente alle spalle anche un'integrazione alle anagrafiche aziendali grazie a Estos Meta Directory quindi una volta stabilito che questa è la base per poter fare della business intelligence assennata io qua per esempio posso vedere bene in questo determinato intervallo temporale lo scorso mese e coinvolgendo magari non il reparto vendite ma solo supporto e marketing ecco queste sono le quantità di chiamate ricevute o fatte le gialle sono le uscenti le blu sono le entranti le durate complessive e i dati qui in ascissa ok sono i nomi delle aziende quindi se l'azienda Muller mi fa 500 chiamate indipendentemente che mi abbia chiamato un giorno il tecnico l'altro giorno il commerciale l'altro giorno l'amministrativo bene sono complessivamente 100 chiamate in un mese da parte di quell'azienda e mi faccio un'idea e diventa importante in situazioni per quali per esempio non so i contratti di manutenzione un'azienda con un reseller con un contratti di manutenzione verso un end user che comprende non so 10 ore di supporto tecnico in un mese può facilmente andare a consultare che qui in realtà il cliente ha sporato ne occupa ne prende 20 al mese allora magari si può proporre di realineare questo tipo di contratto o di fornire qualcosa di più un servizio migliore stessa cosa chiaramente la durata complessiva anche qua a livelli di servizio contagi chiamate picchi orari e anche i clienti principali che mi vanno a contattare esiste poi una sezione chiamata progetti che noi abbiamo pensato specificatamente per quelle aziende che non trovano sufficiente categorizzare le chiamate in base alla provenienza o alla destinazione ma gli vogliono dare quella che viene chiamata più un'etichetta oppure tag a seconda del linguaggio della social network per cui i progetti sono il modo in cui Procall Enterprise mi permette di dire bene questa chiamata è di questo tipo e io vedo poi a posteriori tutte le chiamate raggruppate per questo tipo di etichetta ve lo faccio vedere proprio all'interno di Procall Enterprise immaginiamo questo di ricevere una chiamata quello che vedete a schermo è il pop up di chiamata di Procall Enterprise ovvero quello che compare sul mio desktop ogni volta che io faccio o ricevo una telefonata sul mio dispositivo telefonico ecco questo signor Roberto Roberti che mi chiama io so chi è chiaramente ho anche delle informazioni custom grazie alle personalizzazioni che Procall Enterprise mi permette di fare al termine o durante la chiamata appongo un'etichetta una tag che ho definito chiaramente a livello amministrativo precedentemente bene dico questa si è trattata di una chiamata di vendita e poi al termine della chiamata il pop up scompare ecco questa sezione specifica di Procall Analytics mi permetterà di organizzare di guardare delle statistiche basate su questo tipo di categorizzazione quindi sulla tipologia di chiamata per esempio ma in realtà con una piccola personalizzazione all'interno di Procall Enterprise potrei anche decidere dei criteri automatici basati per esempio sul quale numero di telefono è stato chiamato quale gruppo di telefoni è stato fatto suonare il gruppo del supporto il gruppo della parte commerciale o la divisione progettuale dipende chiaramente dalla dimensione dell'azienda abbiamo fatto un progetto insieme alla come si dice alla Trenord quindi l'azienda che si occupa del trasporto pubblico locale ferroviario in Lombardia in cui loro hanno utilizzato questa funzione per capire quali servizi la clientela chiamava loro hanno un numero pubblico per i reclami numero pubblico per le richieste di orari per le richieste di informazioni sugli abbonamenti ecco grazie a Procall Enterprise e Procall Analytics loro in questo momento hanno dei grafici benefici in cui sanno che questo mese sono entrate 500 chiamate di richieste per orari e 600 di richieste per abbonamenti ovviamente così tante chiamate richiederebbero informazioni più dettagliate sul loro sito web questo sono un genere di decisioni che avere queste informazioni a porta di mano mi permette di fare ecco e anche qua ovviamente livelli di servizio conteggi chiamate piuttosto che tempi di risposta e analisi l'ultima poi diciamo funzione è quella che mi permette di fare delle comparazioni quindi come posso capire se sono migliorato oppure no lo posso capire confrontando due intervalli temporali differenti quindi a parità di dati io vado a dire bene come mi sono comportato questo mese e lo scorso mese questo la sezione riepilogo gestione mi permette proprio di fare questo e quindi proprio sovrapporre i due i due intervalli temporali e anche il riepilogo delle performance per vedere ah guarda questo mese ho un livello di servizio del 78% quindi significa che delle chiamate che sono arrivate sono state risposte al subito il 78% rispetto allo scorso mese che è stato un deciso miglioramento ma perché perché ho solo migliorato effettivamente oppure ho ricevuto meno chiamate in realtà come si evince i dati sono crudeli in realtà ho ricevuto meno chiamate per cui potrebbe essere che il dato in realtà non sia positivo come penso però è importante che lo sappia perché così posso porre le adeguate correzioni questo è ripeto lo scopo finale di applicazione di business intelligence siamo oltre il concetto di vedere che ho fatto 500 chiamate e mi sono costate 1000 euro in bolletta ormai con diciamo tutte le tariffe che gli operatori anche flat che gli operatori mi forniscono questo è un dato che ha sempre meno valore ma valore invece dal punto di vista delle decisioni aziendali delle decisioni strategiche che in azienda si possono andare a prendere per questo è importante quindi tenere sempre sott'occhio i dati Procore Analytics è un po' la nostra garanzia di con cui vogliamo dirvi guarda Procore Enterprise funziona davvero Procore Enterprise davvero migliora le performance comunicative aziendali e il modo per verificare voi stessi che questo è così che funziona è Procore Analytics termino solo facendomi presente che un'altra delle cose che sono state inserite all'interno di Procore Analytics 2 rispetto alla versione 1 oltre a una serie di filtri aggiuntivi disponibili per ogni singolo grafico sono per esempio la possibilità di pianificare degli export quindi posso creare sia degli export quindi proprio dei task che vadano adesso non ve lo faccio vedere tutto è materia da tecnici ma sostanzialmente dei task che vadano a esportare in maniera pianificata quindi una volta al giorno una volta al mese una volta a settimana dei pdf ok proprio dei file pdf da poter visualizzare a schermo e questi file pdf possono essere inviati direttamente via mail da Procore Analytics piuttosto che posizionati su un certo condivisione di rete oppure l'export può essere anche può essere fatto anche a livello di export dei dati perché molto spesso succede che l'azienda abbia magari altre applicazioni a cui questi dati farebbero comodo se messi in pancia applicazioni CRM volute piuttosto che applicazioni di business intelligence a più ampio respiro sono delle applicazioni chiaramente che fanno solo business intelligence ecco noi possiamo anche fare con Procore Analytics da sorgente dati per questo tipo di applicazioni quindi dire bene io ho rilevato una serie di dati sono aggregati sono ben formattati ecco oltre a poterli consultare direttamente da questa interfaccia voi potete anche prenderli in maniera grezza e poterli utilizzare anche su altre applicazioni in formati standard xml csv termino facendo presente che chi ha già acquistato a suo tempo Procore Analytics nella sua versione 1 può aggiornare oggi stesso Procore Analytics alla versione 2 senza alcun costo di licenza per cui semplicemente andate sul nostro sito scaricate l'installer di Procore Analytics 2 che tra l'altro è anche già inserito all'interno dell'archivio di Procore Enterprise lo installate sopra chi conosce le nostre procedure di upgrade sa che sono assolutamente in dolore quindi rilanciate l'installazione avanti 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 non guardate nemmeno cosa c'è scritto tanto il tutto viene ereditato dall'installazione preesistente e Procore Analytics 2 è già pronto e funzionato per chi invece non conoscesse ancora l'applicazione appunto il nostro ufficio commerciale è a vostra disposizione per poter approfondire tutti gli aspetti legati alle possibilità dell'applicativo vi faccio giusto alcuni esempi che ci sono poi arrivati che sono per esempio il monitoring delle performance aziendali vi faccio anche qua un esempio concreto sempre di più visto che il mercato dell'automotive ha avuto una sensibile ripresa nella seconda parte dello scorso anno questa ricrociamo le dita sta ancora continuando molte delle case automobilistiche si sono attrezzate con delle meccaniche di incentivazione molto ben definite molto particolari se vogliamo dire ci è capitato per esempio una casa automobilistica che sappiamo aver detto alle sue concessionarie ebbene guarda comincia l'anno tu hai 100.000 euro di incentivi ok li hai li hai già ogni volta che rileviamo un disservizio ok un cliente che non è stato seguito che è andato a lamentarsi ad un livello superiore piuttosto che un disguido di tipo amministrativo piuttosto che soprattutto comunicativo perché alla fine l'importanza è il cliente la ricchezza vera è il cliente ecco questo questo tipo di di benefit va a scalare un po' come giochi televisivi ecco e quindi per questo tipo di realtà si è reso ancora più necessario sapere e monitorare perfettamente che cosa accade all'interno dell'azienda e la combinazione pro con enterprise pro con analytics è qualcosa che permette appunto questo le altre le altre esempi sono per esempio il fatto di gestire il carico di lavoro comprendere il carico di lavoro capire se sono in grado di ricevere quel carico di lavoro e soprattutto essere in sinergia con quelle che sono le grafiche aziendali perché finché non parliamo tutti la stessa lingua a livello di applicazioni all'interno di un'azienda non ho non ho concluso niente non ho evoluto alcunché quindi ripeto pro call analytics è tranquillamente sia scaricabile per poterlo utilizzare contestualmente ad una applicazione ad un'installazione di pro call enterprise per cui potete tranquillamente poi provare le due applicazioni insieme sulla vostra infrastruttura oppure se volete semplicemente consultare cliccare in giro per l'interfaccia recatevi sulla pagina di pro call analytics sul nostro nuovo sito e a circa metà trovate appunto il link alla piattaforma Devo è accessibile senza applicazione per cui guardatela pure siamo siamo molto felici se potete consultarla e toccarla con mano bene allora prima di passare all'estrazione pro call one vi do una breve anticipazione di quello che accadrà con l'inizio di febbraio un prodotto di cui parliamo da un po' di tempo ma che ancora diciamo ancora non abbiamo rilasciato non è più così è pro call live chat ovvero la possibilità di utilizzare un sito web come metodo di comunicazione verso la mia infrastruttura pro call live chat è un un applicativo che potete vedere per esempio dalla nostra variante ok su call.estos.it è un applicativo che permette di diffondere al di fuori dell'azienda lo status di presence i dettagli e la possibilità di comunicare con uno degli utenti pro call adesso non entro nel dettaglio dell'applicazione perché appunto il tutto verrà ben comunicato con l'inizio di febbraio se volete documentarvi esiste già la pagina live chat all'interno del nostro sito sempre nell'area prodotti unified communication ma quello che mi premeva dirvi è che a breve partiremo con la fase di public beta in cui il prodotto sarà poi liberamente installabile all'interno delle vostre applicazioni che includano già pro call 5 enterprise sarà possibile sia installarla in completa autonomia sia valersi dei nostri servizi professionali quindi una quota vi permetterà di fare in modo che siamo noi a curare l'installazione per voi visto che comunque si parla anche di integrazione nelle piattaforme web ai CMS potreste voler utilizzare anche la nostra conoscenza in tal senso per cui vi invito a documentarvi intanto sulle funzionalità e sapere che da qui all'inizio di febbraio appunto partiremo anche con questa iniziativa allora concludiamo con l'estrazione della licenza pro call 1 per cui avvalendomi di uno strumento di provata neutralità il sito random.org vado a comunicarvi il vincitore vediamo se lo vedo online altrimenti ok lo vedo allora è Valentina Giovannetti di Dedalogate a cui invierò invieremo la licenza di pro call 1 il nostro applicativo di CTI per le singole postazioni così da poter provare anche con mano in maniera definitiva quello che noi pensiamo sia la via giusta per quanto riguarda le integrazioni aziendali quindi complimenti Valentina vi ringrazio vi ringrazio della vostra presenza prima di lasciarvi vi ripropongo chiaramente i miei contatti insomma io sono Stefano Chittero e potete fare riferimento a me ai miei colleghi del reparto tecnico per tutte le vostre necessità di integrazione o di richieste o di curiosità sui nostri applicativi sia in termini banali come per esempio fa la chat fino ad arrivare a come posso integrarmi con Microsoft Dynamics ecco noi siamo appunto qui per questo per cui non abbiate timore nel contattarci sia telefonicamente appunto che via mail se tra di voi ci fosse qualcuno che non conosce ancora i nostri applicativi quindi si trovasse qui per la prima volta diciamo ad avere a che fare con le nostre soluzioni il nostro reparto commerciale invece appunto è a vostra disposizione nella persona della signora Elisa Ceraulo raggiungibile appunto tramite email o via telefonica per poter anche capire quali sono per esempio i vantaggi riservati ai partner e come si compone diciamo da un punto di vista propositivo la nostra suite ringraziandovi ancora e sperando di risentirci tutti quanti a breve per tanti progetti vi saluto e vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti